Master Tok Tok! Chiudiamo il tratto di strada per lavori! Fermata! Grazie mille! Ciao, ci vediamo! Devo riuscire ad arrivare in tempo al garage, prenderò uno scorciatoio! Fermo Lenny, ci sono lavori stradali in corso, fermo! Cosa hai detto? Non riesco ad uscire, da solo non riuscirò! Taiyo! Taiyo! Aiutami! Taiyo! Sto arrivando, sto arrivando! Taiyo, stai molto attento! Mi raccomando! Ah, sono finito anch'io in panna! Mmm! Ah, io lo sapevo che sarebbe finita così! Mi tocca chiamare il carattrezzi! Passo! Ho bisogno di un carattrezzi! Urgentemente! Passo! Speriamo arrivi presto! Chiamata ricevuta! Arrivo! Oh, non riesco proprio ad uscire! Dai, oh, fermo, fermo, fermo! Non c'è bisogno di disperdere tutta quella benzina! Adesso arriva il carattrezzi! Stai tranquillo! Eccomi qua! Andiamo! Ehi, carattrezzi! Devi aiutare anche Lenny! Anche lui è rimasto incastrato! Oh, non ce la faccio! Si è incastrato troppo profondamente! Non ho abbastanza forza! Mmm! Master Tok Tok! Dobbiamo tirare fuori Lenny! Aiutaci! Sì, non c'è problema Taiyo! Arrivo subito! Ho lo strumento adatto! Su, carattrezzi! Tira fuori Lenny! Oh, oh! Oh, no! Non ci riesco! È ancora troppo pesante per me! Oh, ce l'abbiamo fatta! Ma quanto è stato difficile! Su, ragazzi! Adesso tutti al garage! Lenny, non preoccuparti! Io ti porto fino al garage! Eccomi, è arrivato al garage! Fermi, ragazzi! Fermi, ragazzi! Così sporchi! Non andate da nessuna parte! Bisogna lavarsi prima! Oh, no! Mi tocca lavarmi! Oh, no! Mi sa che il lavaggio non funziona! Dobbiamo pensare a qualcosa, a un rimedio! Oh, ma qui c'è un idrante! Proviamo a collegarci una pompa! Vediamo se riusciamo a lavare i nostri ragazzi! Mmh, mmh! Anche l'idrante non funziona! L'acqua non arriva! Dobbiamo pensare a qualcos'altro! Mmh! Master Tok Tok! Proviamo a prendere l'acqua dal laghetto! Che ne dici? Mmh! Hai avuto proprio un'ottima idea, Tayo! Faremo proprio così! Per questo ci serve una pompa di drenaggio! Eccola qua! Uniamo la nostra pompa di drenaggio al nostro tubo! Mmh! Ecco fatto! Adesso lo inseriamo all'interno del tubo! del laghetto! Ci siamo! Proviamo a vedere se funziona! Sì! Funziona alla grande! È così! Adesso presto sarai pulito, Lenny! Mmmh! L'acqua non basta! Ci serve un grosso spazzolone per pulire a fondo! Adesso sarai tutto pulito! Oh! Finalmente sono tutto pulito! Adesso posso andare in garage! Ciao a tutti! Taglio su! Adesso è il tuo turno! Vai a lavarti! Ecco ti do una bella lavata! Per togliere tutto questo sporco! Ah! Come mi piace! Sì! Continua così! Ahah! Vado in garage! Ciao Master Tok Tok! Ciao Lenny! Ciao Taio! Riposatevi! E con te ci vediamo al prossimo episodio! Ciao Ciao!